scusate per una questione che non me ne sono accorto il tempo è finito quindi cosa ho fatto? ho tolto tutta la roba che c'era all'interno l'ho spento ovviamente e adesso vi stacco e attacchiamo l'asciugatrice allora ho pulito sia il cassetto che il filtro quindi questa è la roba non ce n'è tanta giornaliero asciugamani giornaliero massimo andiamo il via adesso facciamo una bella cosa mamma mia scusate per tutte le ditate che ci sono diamo una pulita anche qua ecco fatto questo sarà sicuramente un video aggiuntivo e visto che ci sono e che tanto oramai ho fatto partire il video vi faccio vedere per 15 minutini l'asciugatura ce n'è per 10-15 minuti ma farò 10 filtro laHiszeugamani giornaliero asciugamani giornaliero Asciugamani giornaliero Adesso la lavatrice, praticamente la lavatrice, sì, l'asciugatrice farà solo rotazioni in senso orario, ogni tanto farà delle rotazioni in senso anti-orario, ma prima che le faccia ce ne vuole. Grazie a tutti. I detersivi che ho adesso, il sole, vabbè, dove poggio tutto. E qua dietro c'è il Dixon. Adesso ovviamente la macchina non farà veramente 4 ore e 37. Quando sente che più o meno la roba è asciutta, diminuisce di temperatura, di viaggio, no? Anche se in realtà io utilizzo il jeans, questo qua, oggi ho deciso di usare il cotone, visto che è tutto cotone. Bene, per questo mini video è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Arrivederci.